Il decreto molise approda sul tavolo dei ministri della salute schillaci e dell'economia e finanze Giorgetti grazie all'interrogazione parlamentare depositata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Elisa Pirro un'iniziativa partita dal Molise e dal consigliere regionale dello stesso movimento Roberto Gravina che in sostanza chiede di sapere se i ministri competenti intendano intervenire con iniziative anche di carattere normativo per salvaguardare la salute dei cittadini e quali risorse intendano utilizzare vista l'assenza di specifici stanziamenti nella legge di bilancio per il 2024 a tutela della sanità pubblica molisana Gravina parla di atteggiamento ondivago da parte degli esponenti molisani del centrodestra sia a livello regionale che parlamentare ripercorrendo le tappe della vicenda che vedeva in primo piano l'adozione di un provvedimento straordinario che consentisse di superare il commissariamento della sanità regionale abbattendo il debito accumulato dalla regione e puntando a una sanità pubblica di qualità ma oggi, ha dichiarato Gravina, per la prima volta dopo le elezioni politiche e la campagna elettorale a distanza di quasi 18 mesi il centrodestra ammette le difficoltà di adottare un provvedimento di questo tipo perché il debito molisano molto ingente non potrà essere azzerato e si procederà alla sua riduzione in modo consistente annullare il debito è praticamente impossibile queste le parole di alcuni esponenti politici del centrodestra appare quindi ormai chiaro a tutti e ai molisani come il decreto molise sia stato un feticio elettorale che si è cercato poi di confondere con altri interventi e prestiti che il governo ha concesso alla regione per permettere di chiudere il bilancio regionale ha concluso Gravina è necessario che si evitino altre strumentalizzazioni su un tema troppo importante per il futuro della nostra regione e soprattutto che si dica a molisani come stanno davvero le cose